Lo splendore di Maria. 31 agosto 1971. Figli miei, sono qui in mezzo a voi e ho pregato e prego con voi perché desidero che la mia dolcissima mamma sia sempre più conosciuta ed amata. Io desidero oggi, in modo particolare, invitarvi a trascorrere il mese che state per cominciare in un modo non comune. Vedete, figli, in paradiso non vi è istante in cui non echeggi una lode per quella creatura tanto eccelsa che ebbe l'incarico di darmi i Natali come uomo. A lei inneggiano gli angeli e i santi. E la Trinità stessa la glorifica per l'opera di salvezza che va svolgendo nel mondo, cosicché quando un'anima entra nel cielo, mentre glorifica la mia redenzione. Glorifica anche la corredenzione della Vergine e tutto il Paradiso prende parte a questa azione di grazia e a questa gioia. La Chiesa sulla Terra deve ricordare e riprodurre le feste del cielo, a cui va preparando le anime. Ogni solennità dovrebbe perciò rallegrarvi e mettere nel vostro cuore la nostalgia del Paradiso e il desiderio di possedere quelle virtù che i santi, con la sua regina a capo, hanno praticato per poterlo raggiungere. Così voi inizierete questo mese, festeggiando quel miracolo di grazia che è Maria Bambina. E come osservarla e pensarla senza sentirsi commuovere e proporre di assomigliarle. La sua bellezza esteriore non è che il riflesso di quello splendore interno per cui è la piena di grazia. Figli miei, il mondo non dà importanza che all'esteriorità. Volete che il vostro corpo apparisca, e non esitate a circondarlo di molte cose inutili e cattive, pur di metterlo in mostra. Io vorrei, mamme e figlie, veder riprodotta in voi la mia mamma. Vi prego, fate in modo che la vostra bellezza sia veramente attraente per quelle virtù e quella grazia che voi andate praticando. Non vi deve essere contrasto fra la bellezza del corpo e quella dell'anima. Il corpo è lo strumento dell'anima. Se amate Dio e vi riempite di Lui, il vostro viso sarà luminoso. Capiterà anche a voi ciò che avveniva a Mosè, che, quando scendeva dal monte dopo aver parlato col Signore, il suo viso riluceva di una luce fulgidissima. Anche la piccolezza della mia mamma vi deve parlare al cuore, e vi deve invitare all'esercizio di quella semplicità che diventa sempre più difficile scoprire fra gli uomini. Tutti rendono la vita molto complicata e non si accontentano di nulla. Nella semplicità troverebbero la felicità, poiché i semplici non hanno molti desideri. Se moltiplicate i vostri desideri, diventate degli infelici, poiché non vi sarà possibile realizzare se non una piccola parte di ciò che desiderate. Siate semplici, figli. Amate la semplicità nel mangiare, nel vestire, nel pregare. In tutto, poiché questa virtù vi renderà simili alla mia mamma, che non conobbe esigenze e non chiese nella sua vita che di realizzare la volontà di Dio. La festa della natività della mia mamma vi porterà a quella del suo nome. Come vi devo dire la potenza di questo nome pieno di amore e di dolore? La mia mamma, sappiatelo, è potente in cielo, in terra e negli abissi. Nel suo nome i demoni fuggono, in cielo si piegano le ginocchia, e i dannati, con odio più accanito, si combattono e fremono per non aver saputo adoperare e invocare mia mamma, così grande, e salvarsi. Chi vuol vincere le tentazioni e se stesso non ha che da invocarla e già sente potente il suo aiuto in ogni necessità. Quando in paradiso vi unirete agli angeli e ai santi per ringraziarla, vedrete quante lacrime, quanta sofferenza ognuno di voi le ha procurato, perché, essendo ognuno di voi figlio, dalle sue doglie è stato generato. Con lei, per lei, e per darle consolazione. Trascorrete questo mese e fate che segni veramente un punto di partenza nella vostra vita. Da oggi, ogni giorno, il pensiero di mia mamma, così piccina e così grande, così piena d'amore e così poco amata, sia a voi di sprone a santificarvi. Ogni giorno un passo avanti, ogni giorno un dono a lei da parte vostra, che vi sarà ricambiato da me. Sono il vostro Gesù di misericordia, fratello vostro, come voi, figlio di Maria. Vi benedico, figli, e vi amo. Benedico i vostri ammalati. Fate arrivare la mia voce in tutte le famiglie e in tutti i paesi vicini e lontani.